Io sono meglio di voi, no? Lui è meglio degli altri. You guys are better than everybody else. Cosa pensate a queste frasi? Giusto, sbagliato? Io sono meglio di voi. Qual è il problema del fare le differenze, del pensare che noi siamo più bravi, più forti, più belli, più alti, più bassi? Vabbè, quello basta misurare, però come mai c'è un problema nel innalzarci sopra gli altri? Come mai non va bene? Non funziona perché spesso noi stessi non abbiamo una visione bilanciata di noi stessi. Quando io dico agli altri, io sono meglio di te, cosa sto facendo? Beh, io lo sto abbassando e mi sto innalzando, sto pensando che sono meglio degli altri, ma forse la verità non è quella. E oggi vedremo una parabola. Luca, capisci capitolo 18. Abbiamo fatto una piccola pausa da prima Pietro, dalla persecuzione e vediamo perché Gesù racconta questa parabola, questo racconto alle persone che sono lì davanti a lui. In Israele, forse un po' come adesso, c'è il problema di fare le differenze. Io sono meglio di lui, lui è meglio di lei, fare queste differenze, di pensare che una persona è meglio dell'altra. E il problema in Israele, e adesso ve lo spiegherò, è che c'erano alcune persone che pensavano di essere meglio di altre. Leggiamolo dal versetto 9. versetto 9. Luca 18, versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Qual era il problema? Che c'erano alcune persone che pensavano, pensavano non dice che erano, ma che pensavano, erano persuasi di essere giusti. Sentendosi giusti, quindi disprezzavano gli altri, buttavano giù gli altri nella loro mente. Oggi vedremo due gruppi di persone e vi dico subito che ognuno di noi rientrerà in queste categorie, non c'è nessuno che la scampa. Il primo gruppo di persone sono quelle persone che pensano di essere giusti grazie a loro stessi, alla loro bravura, a quello che fanno, a quello che non fanno. Magari si sentono più spirituali degli altri e quindi si sentono più alti, più giusti, più giustificati, più meglio, se possiamo usare questa mia espressione preferita. Si sentono meglio degli altri. Scopriremo però che non lo sono. l'altro gruppo di persone. Saranno questa figura del pubblicano. Loro comprendono la loro condizione peccaminosa davanti agli altri, comprendono di aver bisogno di essere perdonati, di essere giustificati da Dio, non dalla loro bravura, ma da Dio. E quindi potremmo dire che ci saranno questi due gruppi di persone, i farisei, i pubblicani, e che ognuno di noi in qualche modo rientrerà in queste due categorie. I farisei, piccolissima spiegazione, l'ho già spiegato prima d'ora. Chi erano i farisei? Beh, erano delle persone molto, molto, molto religiose che seguivano non soltanto la legge di Mosè, i dieci comandamenti, le 613 leggi di Mosè che c'erano scritte nel Vecchio Testamento, ma seguivano anche il Midrach, cioè gli insegnamenti dei vari rabbini, cioè l'interpretazione delle 613 leggi. Ne ho lette una, ne ho trovato una interessante stamattina, da un esempio del sabato, quindi il giorno di riposo. Alcune cose che potevano fare o non fare, c'è una lunghissima lista, ne ho trovato una interessante. Il giorno del sabato non potevano accendere un fuoco, non potevano bruciare le cose e non potevano spegnere un fuoco se c'era un fuoco acceso. Qui per esempio, prendere uno stuzzicadente e metterlo nel fuoco era già condannato, era già un errore secondo il Midrach. E questo è solo un piccolo esempio, non potevano scrivere, non potevano fare dei calcoli, non so, 2 più 2, già era troppo. Quindi avevano tutte queste leggi e per loro seguire queste migliaia e migliaia e migliaia di leggi era un modo per provare che loro erano giusti davanti a Dio. Ma scopriremo in questa storia che non funzionava assolutamente. Matteo 23 Gesù dice proprio ai farisei, guai a voi, scrive ai farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati. È come prendere un sepolcro dove c'è dentro la morte, dove c'è dentro la decomposizione e pittorarlo di bianco. Dentro c'è comunque la decomposizione, dentro c'è la morte, c'è tutto quello che c'è di brutto potremmo dire, però davanti sembra bianco, sembra bello. I farisei erano proprio così, dentro erano brutti, dentro non erano giustificati, ma fuori avevano questa sembianza di essere belli. E poi vedremo i pubblicani, chi sono i pubblicani? Beh, i pubblicani potremmo dire che erano dei businessmen, erano delle persone che lavoravano per far soldi, ma a discapito dei loro compaesani, loro ricevevano l'autorizzazione da parte dei romani per prendere le tasse dal popolo, spesso rubavano in questo, prendevano molto più di quello che dovevano e quindi era una figura molto, molto odiata in Israele. Potremmo dire che secondo gli altri il pubblicano viveva una vita di costante peccato, cioè ogni giorno della loro vita era una vita immersa nel peccato proprio per il lavoro che loro facevano. Ricordiamoci che Levi, detto anche Matteo, era stato un pubblicano, quindi vediamo il cambiamento di vita. Ok, siamo arrivati al testo, quindi adesso ce lo leggiamo tutto, tutto, più o meno tutto quello che vediamo e poi preghiamo e arriviamo già a una conclusione, scherzi. Versetto 9, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé, oh Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo, ma il pubblicano se ne stava a distanza e non usava neppure alzare gli occhi al cielo. Ma si batteva il petto dicendo, oh Dio abbi pietà di me peccatore, io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Signore ti preghiamo per questo tempo di studio della tua parola, della Bibbia, ti ringraziamo perché possiamo leggere e possiamo imparare e possiamo applicare alla nostra vita. Ti prego questo per ognuno di noi qui questa mattina, che possiamo applicare quello che leggiamo insieme al nostro cuore. prego per coloro che seguono da casa, Signore, che anche loro possano concentrarsi nel messaggio e nella tua parola e trovare un'applicazione personale alla loro vita. Ti prego di già rendere morbidi, rendere preparati i nostri cuori questa mattina, pronti ad accettare il messaggio dalla tua parola. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù dà un po' di introduzione nel versetto 9, quindi ci spiega come mai racconta questa storia, come mai vuole raccontare questa parabola. Alcuni pensano di essere giusti e quindi disprezzano gli altri e poi ci racconta la storia. Inizia quasi come una barzelletta, no? Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Mi immagino la folla che ascolta questa storia. Ah, fariseo, wow, sì, farisei, questi sono il top, sono le persone più spirituali, sono il meglio del meglio. Ah, poi il pubblicano, il pubblicano è veramente la cosa peggiore che ci sia. Gesù inizia con due estremi, una persona che era considerata molto spirituale e una persona che era considerata molto peccaminosa, un traditore, qualcuno che viveva costantemente nel peccato. Mi immagino che nella folla c'erano anche dei farisei. Mi immagino che c'erano anche dei pubblicani, tra cui il discepolo di Gesù. E quindi le orecchie si aprono. Aspetta, sta parlando forse di noi. Vediamo un po' cosa dice Gesù, ma magari si immaginavano che Gesù avrebbe detto, è arrivato il fariseo, il fariseo è in gamba, bravo, è pubblicano, si dovrà vedere. Invece no, la storia sarà completamente diversa. Versetto 11 e 12, guardiamo il fariseo. Il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé. O Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Stando in piedi. Beh, questa è una posizione tipica di preghiera e anche per gli ebrei nel primo secolo. Quindi quello di alzarsi in piedi non era per farsi vedere necessariamente, ma era per far vedere un po' che uno stava pregando. E poi dice, pregava così dentro di sé. Quindi non necessariamente a voce alta, però sta tra lui e Dio, chiacchierando. E vediamo che tipo di preghiera lui fa. Cioè, come potremmo descrivere questo fariseo e il suo atteggiamento? Beh, vediamo che lui è contento che non è come gli altri. Che lui è fiero e orgoglioso di come lui è rispetto agli altri. Abbiamo spesso parlato di ringraziamento e suppliche, no? Il fariseo ne manca la maggior parte di queste cose. Lui parla solo di sé stesso quanto è grato a Dio perché lui non è come gli altri. Potremmo dire che il fariseo usa la sua preghiera, la sua chiacchierata con Dio per innalzarsi e per abbassare gli altri. E usa degli esempi. Ringrazio perché non è un ladro, non è ingiusto, non è un pubblicano. Cioè, lui addirittura mette tutte queste parole in una categoria, una categoria di peccati pesanti, tra cui essere un pubblicano. E poi dà gli esempi della sua bravura religiosa. Dice, beh, io digiuno due volte a settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Beh, intanto, secondo la legge di Mosè, c'era un giorno di digiuno all'anno e non c'era bisogno di dare la decima di tutto quello che uno possedeva, ma delle entrate economiche di quello che uno possedeva. E poi comunque era una scelta personale se uno voleva dare di più. Qui lui, nella sua religiosità, vuole dimostrare che è veramente bravo rispetto ai ladri e rispetto magari agli altri. Ci sono dei problemi religiosi a guardare questo uomo? Beh, no, dai, non fa i peccati grossi. Comunque, digiuna è un modo per dimostrare che lui dipende da Dio e non dal cibo, quindi è una cosa positiva. È generoso con le sue entrate. Sono tutte cose buone. Non c'è niente di sbagliato qui. Però è la motivazione che è sbagliata. Lui lo fa perché pensa di essere giusto, giustificato grazie a queste cose. E lo vedremo più avanti questo, versetto quattordici. Versetto tredici. Arriviamo al nostro pubblicano. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non usava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Come possiamo descrivere il pubblicano, questo tipo di persona? Beh, se ne stava a distanza, quasi voleva nascondersi nell'angolino per quanto si vergognava del suo lavoro, del suo modo di vivere, il fatto che lui era un peccatore. Non osava neanche alzare gli occhi al cielo perché lui capiva che Dio è un Dio perfetto, che Dio è un Dio grandioso e lui non era altro che un peccatore. Si batteva il petto dicendo, oh Dio, abbi pietà di me. Cioè, ho bisogno del tuo aiuto. Dio ho bisogno di te perché sono un peccatore. Il pubblicano riconosce veramente come messo davanti a Dio, riconosce la sua peccaminosità, riconosce il fatto che ha bisogno di perdono, ha bisogno di essere salvato. Abbi pietà di me, peccatore. Quindi lui si rende conto della sua condizione davanti a Dio. Non è come il fariseo. Il fariseo pensa di essere bravo davanti a Dio perché fa tutte queste cose, oppure perché non fa altre cose. Invece il pubblicano capisce che lui è un peccatore. E quindi arriviamo alla conclusione shock di Gesù. Ci immaginiamo la folla che sta ascoltando Gesù, che racconta questa parabola. Magari la folla stessa pensava, beh, il fariseo è lui che è da emulare, da seguire. È il tipo di persona che dovremmo seguire, non il pubblicano. Invece è il pubblicano quello che ha il cuore giusto davanti a Dio. Versetto 14. Io vi dico, Gesù stesso dice, io vi dico che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Una conclusione a sorpresa, una conclusione inaspettata. Il pubblicano, il peccatore, il traditore degli ebrei, il traditore del suo popolo, giustificato, reso giusto davanti a Dio. Il fariseo religioso, bravo, che faceva tutto quello che doveva fare, non giustificato, non perdonato, non dichiarato giusto davanti a Dio. C'era un altro ex fariseo, un tipo chiamato Paolo. Lui parlando della sua esperienza, del suo passato, dice così in Filippesi 3, versetto 8, dice così, Philippians 3, 8, dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose, cioè il suo passato, cioè il suo essere fariseo, cioè il suo essere bravo davanti agli uomini. Io considero queste cose come tanta spazzatura, tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Paolo si era reso conto, grazie all'intervento di Dio nella sua vita, che tutto quello che lui faceva, le sue opere, il suo dare la decima, il non uccidere nessuno, tutte queste cose da fariseo non potevano giustificarlo. Era una giustizia derivante dalla legge che non era giustizia per niente, non era niente davanti a Dio, era solo tanta spazzatura, nient'altro, non c'era niente di buono. E l'unica vera giustizia è quella che si ha mediante la fede in Cristo, cioè credendo in Cristo come nostro Salvatore, come nostro Signore. E quindi arriviamo a noi. Come possiamo essere giustificati? Intanto cosa significa veramente essere giustificati? Beh, essere giustificati significa avere pace con Dio, avere perdono, significa avere le cose a posto con Lui. Ricordiamoci, Dio è un Dio perfetto, Dio è un Dio di giudizio, Dio è un Dio che punisce per il peccato e quindi come posso essere giustificato davanti a Dio? Come posso essere dichiarato giusto non con quello che io faccio, ma con quello che Cristo ha fatto? E quindi cosa ci insegna questa parabola? Guardando questi due gruppi di persone. Beh, prima di tutto devo riconoscere la mia vera condizione davanti a Dio. Devo essere sincero. Lo so, magari non ho mai ucciso a nessuno, non ho mai rubato una banca, non ho mai rubato le tasse dal mio popolo per tenermele per me come pubblicano. Ma se noi siamo sinceri, se noi apriamo il nostro cuore verso Dio, dobbiamo renderci conto che non siamo perfetti, siamo dei peccatori, ammettere il nostro stato di peccato davanti a Dio. E arriviamo poi alla soluzione di Dio. Alla fine questo non è altro che il Vangelo. Cristo è morto sulla croce, al posto nostro, perché io non potevo essere perfetto, io non potevo autogiustificarmi. Quindi Cristo è morto sulla croce al posto mio. E la nostra risposta, la chiamata di Dio è fede in Gesù, fede in quello che Cristo ha fatto sulla croce. E c'è una promessa che chi accetta il messaggio di Gesù sulla croce, chi crede con fede in Cristo, è dichiarato giusto. Non giusto perché io sono giusto, non perché io sono meglio di voi, ma sono dichiarato giusto da parte di Dio, perché ho accettato Gesù come mio Salvatore. E quindi alla fine questa parabola non fa altro che raccontarci il messaggio del Vangelo, una giustizia che Dio ci dà per la sua grazia, per la sua misericordia. In conclusione, da Tito 3. Potete aprire le vostre Bibbie, Tito 3, versetto 4. Non ho messo i versetti sullo schermo, scusate. Tito 3, capitolo 3, versetto 4. Titus 3, versetto 4. Dice così, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, cioè al momento giusto, quando Dio ha mandato suo figlio in terra, versetto 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute. Ovviamente il fariseo pensava che con le sue opere giuste, con quello che lui faceva, poteva essere salvato. Tito 3, 5 dice, egli ci ha salvati non per le opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. La misericordia non è qualcosa di meritato, è qualcosa che Dio ci regala, che ci dona, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Quindi è Dio che sta operando in noi, non noi che stiamo operando per salvarci, versetto 6, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore. Affinché giustificati, resi giusti dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. E questa speranza, come dico sempre, è una speranza certa, è una speranza al 100%. Quindi la nostra speranza qual è? Di essere giustificati da quello che io faccio? Giustificato da quello che non faccio? No, io sono giustificato dalla grazia di Cristo Gesù. Quindi la mia preghiera per ognuno di noi qui questa mattina è che possiamo capire dove ci mettiamo, in quale gruppo siamo. Siamo nel primo gruppo che magari pensiamo di essere abbastanza bravi, non ho mai ucciso nessuno, non hai fatto niente di troppo brutto, ma questo non ti può giustificare davanti a Dio. Dobbiamo tutti passare a far parte del secondo gruppo di renderci conto del nostro bisogno di salvezza, di perdono, di giustificazione da parte di Dio. Preghiamo. Signore, ti prego per ogni persona qui questa mattina, ti prego che tu possa toccare i loro cuori se ancora non sono come quel pubblicano che ancora non hanno capito il loro bisogno di essere salvati, che oggi sia il giorno della loro salvezza. Ti preghiamo di aprire i loro cuori e anche per noi che magari abbiamo già accettato il tuo messaggio della salvezza, siamo già giustificati grazie a te, alla tua misericordia. Signore, ti preghiamo che possiamo vivere una vita secondo questa grazia che abbiamo ricevuto, una vita dimostrando frutto, dimostrando che veramente siamo i tuoi figli, Signore. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo un ultimo canto, un po' come risposta.